Grazie a tutti. Il Cicu conferma gli ostacoli delle norme comunitarie, ma promette battaglia a Strasburgo per il diritto alla mobilità dei sardi e la condizione di insularità. Il circolo popolare europeo torna all'attacco sull'occupazione dell'ex caserma dei carabinieri. La sinistra delle regole valide solo per i nemici e non per i compagni è sbarcata anche ad Alghero, scrive Lina Bardino. Come ogni lunedì nel Cigi di oggi un ampio resoconto del weekend sportivo appena trascorso. Solo un punto per l'Alghero, fertili a K.O. Assorso. L'amatore rugby vince contro Parma. Per il basket sconfitte, per le ragazze di Mercedes, palla canestro Alghero. Un saluto a tutti voi, buon inizio di settimana telespettatori di Catalan TV. Apriamo il telegiornale parlando delle iniziative a sostegno dei voli low cost e torniamo in particolare sulla manifestazione di sabato organizzata da Forza Italia. Perché in quell'occasione abbiamo intervistato anche l'europarlamentare Salvatore Cicu che plaudi all'iniziativa dei privati e conferma come le norme europee in materia siano rigide ma mette anche l'accento sul diritto alla mobilità dei sardi. Ma innanzitutto una difesa, quella della mobilità al diritto dei sardi di potersi spostare all'interno del contesto europeo e del contesto internazionale. Certamente una complicata situazione che vede un confronto con l'Unione Europea che purtroppo nella sua normativa non prevede aiuto di Stato per quanto riguarda le compagnie low cost ma le prevede solo ed esclusivamente su situazioni che non riguardano purtroppo l'aeroporto di Alghero e dove invece manca in assoluto una programmazione della regione Sardegna sul sistema turistico che è uno dei settori più importanti su cui bisogna investire e su cui bisogna riversare la possibilità di una destagionalizzazione. Credo che i privati possano fare molto, l'esempio di Trapani con il co-working e cioè con la possibilità delle camere di commercio con gli imprenditori privati, col sistema anche imprenditoriale che naturalmente è quello sì che può essere sostenuto dalla regione, può essere sostenuto con diverse formule, dobbiamo attivarci per trovare una soluzione perché non è pensabile che si dimezzi la possibilità di muoversi e non è pensabile che soprattutto le low cost che hanno realizzato tanto in questo settore scappino dalla Sardegna. Le recenti parole della commissaria europea per la concorrenza secondo lei hanno aperto degli spirali in tal senso? Ma purtroppo no, non ci sono spirali veri, non ci sono spirali sostanziali, nella risposta all'interrogazione che è stata fatta si citano le due eccezioni ma le due eccezioni riguardano le regioni remote, la Sardegna non rientra nelle regioni remote e riguarda l'apertura di nuove rotte ma con compagnie aeree diverse quindi mi sembra difficile l'applicazione in questo momento. Certo, non dobbiamo escludere nulla, dobbiamo attivare un confronto più serio anche attraverso la rappresentanza italiana perché il governo italiano non può ritenersi escluso dalla tutela, dalla garanzia che i sardi abbiano un diritto, quello di potersi muovere. E l'iniziativa dei privati richiamata anche nell'intervista dell'onorevole Cicu, come detto andrà avanti sino alla fine del mese e come stiamo facendo ormai da alcuni giorni rilanciamo ancora una volta la locandina con il codice IBAN al quale inviare la propria donazione anche perché non sono coinvolti soltanto le imprese del settore ricettivo ma anche i privati, i cittadini l'obiettivo è raccogliere almeno un milione di euro entro il 31 gennaio per poi trattare con le compagnie aeree per i collegamenti low cost appunto su questo fronte va detto che il management della Sogeal in queste settimane non è stato a guardare, ha già avviato dei discorsi con varie compagnie potrebbe essere attivato un collegamento con Ginevra quindi la Svizzera grazie a EasyJet ma sarebbero in fase avanzata anche trattative per nuove rotte verso l'est Europa cambiamo argomento, torniamo a parlare dell'ex caserma dei carabinieri oggetto anche di aspre polemiche politiche per l'occupazione attuale da parte di alcune associazioni è stato presentato un esposto alla procura della Repubblica per chiedere tra le altre cose lo sgombero che ancora non è avvenuto e ora il circolo popolare europeo con una nota firma di Pasqualina Bardino torna all'attacco la sinistra delle regole valide per i nemici e non per i compagni è nostro malgrado da qualche mese sbarcata anche a Dalguero fortunatamente dati alla mano delle elezioni che hanno visto Bruno diventare sindaco questa parte politica ha preso una manciata di voti ma essendo colonna portante dell'attuale sindaco oggi si trova a governare prima come c'era un Alghero migliore e poi oggi sotto varie sigle cambiano gli interpreti ma la musica stonata è sempre la stessa a riaccendere la miccia delle polemiche sull'ex caserma ci pensa Pasqualina Bardino del circolo popolare europeo sentivamo echeggiare dappertutto il ritornello, la sinistra dove governa fa solo danni e quanto successo ad Alghero in questo anno e mezzo è il plastico esempio della peggiore amministrazione che un comune possa avere scrive Labardino ma ciliegina sulla torta di questo modo nefasto di governare è l'assoluto disprezzo per le regole i compagni vedono la pagliuzza ma non la trave che è l'occupazione fuori ogni regola dell'ex caserma dei carabinieri un luogo di estremo pregio e valore stimato in oltre 4 milioni di euro che ha ospitato legalità e onore oggi secondo l'esponente del circolo popolare europeo si trova in balia di un gruppo di persone che ammaliando una fetta di persone per bene ma con problemi fa politica non per la città ma per i propri interessi paladini dell'attuale sindaco e soprattutto dell'assessora che ha messo in ginocchio bar e ristoranti si trovano da mesi a fare feste e manifestazioni in un luogo di proprietà del comune inutile che nascondano la trave con la pagliuzza di qualche azione da boy scout anche altri giovani ad alguero senza tanti strombazzamenti mediatici compiono azioni onorevoli ma nessuno di questi singoli associazioni ha la fortuna di possedere una sede da 4 milioni di euro nel centro di alguero gentilmente concessa dall'amministrazione mica sulla questione ricorda la bardino c'è già un'indagine della procura ma neanche questo ferma i compagni dalla loro spavalderia e arroganza soprattutto sui social contro chiunque cittadini, politici, giornalisti, critichi i loro mentori oggi ancora per poco incollati a Sant'Anna se questi personaggi avessero un minimo di dignità lascerebbero subito quella struttura in attesa della destinazione decisa dal bando annunciato dall'amministrazione visto che non tutti del resto sono fortunati come i devoti compagni del sindaco che con protervi hanno trasformato la res pubblica in res privata ma come risapuso la giustizia è lenta ma arriva sempre e inesorabilmente sempre anche per i devoti del sindaco conclude la bardino invece per non è arrivato il momento di fare una pausa per la pubblicità il partito democratico di alguero ospiterà questo pomeriggio alle 18.30 nel circolo locale di via Mazzini 99 un dibattito aperto sulla legge di stabilità e vedrà la presenza dei propri senatori, deputati e consiglieri regionali del territorio la segreteria provinciale in accordo con i parlamentari eletti nel territorio ha deciso di dare avvio ad una serie di incontri zonali su tutto il territorio provinciale obiettivo dell'iniziativa è rafforzare la presenza sul territorio e contemporaneamente aprirò un confronto e un dibattito sull'azione politica del governo nazionale guidato dal premier Matteo Renzi all'iniziativa saranno presenti la deputata Giovanna Sanna e il senatore Silvio Lai rappresentanti della segreteria provinciale e i consiglieri regionali scusate del partito democratico eletti nel nord Sardegna il segretario generale Luca Canessa responsabile della prevenzione e corruzione per la trasparenza e integrità del comune di Alghero rende noto che cittadini, associazioni, organizzazioni e sindacali territoriali possono contribuire all'aggiornamento dello strumento di pianificazione attraverso il quale l'amministrazione definisce le strategie di prevenzione del fenomeno della corruzione il piano comprende e si interfaccia con il piano triennale della trasparenza e dell'integrità e si relaziona con il codice di comportamento integrativo dell'ente entro il 28 gennaio 2016 cittadini e le organizzazioni rappresentative di interessi collettivi interessati a presentare, formulare osservazioni, indicazioni utili, suggerimenti potranno farlo a mezzo PEC all'indirizzo protocollo chiocciolacomune.alghero.ss.it oppure a mezzo mail all'indirizzo m.monti chiocciolacomune.alghero.ss.it o mediante l'utilizzo del modulo cartaceo reperibile nella home page del sito internet del comune di Alghero è depositabile presso l'ufficio protocollo di Sant'Anna il piano triennale di prevenzione della corruzione è consultabile online nella sezione amministrazione trasparente altri contenuti, prevenzione e corruzione il piano triennale per la trasparenza e integrità si trova in amministrazione trasparente disposizioni generali, programma trasparenza e integrità il codice di comportamento integrativo invece è visibile in amministrazione trasparente disposizioni generali, atti generali anche quest'anno la Società Umanitaria di Alghero celebra il giorno della memoria sentiamo nel prossimo servizio quali sono gli appuntamenti in programma mercoledì 27 gennaio alle ore 20 al Cinema Miramare di Alghero verrà proiettato il labirinto del silenzio film tedesco del regista italiano Giulio Ricciarelli candidato agli Oscar 2016 nella categoria miglior film straniero teso e appassionante il film ricostruisce una pagina importante della storia della Germania post bellica il momento in cui il popolo tedesco comincia a fare i conti con l'orrore dei campi di sterminio mescolando personaggi reali il giornalista Thomas Nielka e il procuratore Fritz Bauer a cui il film rende omaggio e di finzione il protagonista composto da tre procuratori esistiti l'autore realizza un dramma giuridico e personale storicamente irreprensibile film dossier sobri ed efficaci il labirinto del silenzio scorre una pagina rilevante della storia in fondo alla quale il male avrà finalmente un nome, un viso, un età, un indirizzo giovedì 28 e venerdì 29 invece presso la sala della Mediateca di Via Marconi 10 ci saranno altre due proiezioni sul tema riservate ai tesserati infine le iniziative della società umanitaria per il giorno della memoria non potevano non prevedere un momento dedicato alle scuole nelle mattine dei tre giorni gli studenti delle scuole medie della città potranno vedere il film Corri, ragazzo, corri di Pepe Dankart il film ispirato al bestseller Corri, ragazzo di Uri Orlev racconta la storia vera di Joran Fredman un bambino ebreo di 8 anni che si finge polacco per scampare alle truppe naziste nei giorni scorsi nella sede di Via Sassari si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche dell'associazione culturale Tolos la Tolos costituitasi oltre 20 anni fa con lo scopo di promuovere la realizzazione di un museo cittadino attualmente svolge attività di approfondimento della conoscenza del patrimonio archeologico, storico e culturale del territorio e promuove studi e ricerche in ambito storico, antropologico e sociale i soci hanno eletto alla carica di presidente Franco Sanna a quella di vicepresidente Alberto Gavini segretario Sandro Fiamma tesoriere Lina Premoli gli altri membri del consiglio direttivo sono Roberto Coghen, Giovanna Tillocca, Giovanna Altamura revisori dei conti Annalisa Profili e Mariella Armali ci lasciamo ancora e come ogni lunedì parliamo di sport iniziamo come sempre dal calcio e dal campionato di promozione dopo la terza giornata di ritorno la classifica cambia ben poco ecco perché l'Alghero ha conquistato un solo punto mentre il Fertilia ha perso a sorso un gol in pieno recupero di Mannu servito dal neo entrato d'Anna ha regalato un punto all'Alghero che sebbene non cambi molto la classifica è particolarmente pesante perché ho tenuto contro una diretta concorrente il vantaggio dello stintino peraltro era arrivato a 10 minuti dalla fine con De Palmas sul sintetico di Olmedo è andato in scena un match equilibrato con poche occasioni per parte e il pareggio forse il risultato più giusto ma che accontenta più la squadra di Udassi che conserva i sette punti di vantaggio un po' meno i giallorossi che avrebbero voluto accorciare sul quintultimo posto l'unica nota parzialmente positiva è che nessuna delle due squadre davanti ha vinto con Seniscola e Montalbo le due che occupano la zona play-out che hanno perso a sorso invece il Fertilia è incappato nella tredicesima sconfitta stagionale contro la vice capolista i giallobluri hanno potuto fare ben poco e già dopo dieci minuti si sono trovati in svantaggio il gol di Canu non ha praticamente scosso la formazione algherese che come è già accaduto nel primo tempo in avvio di ripresa subisce il 2-0 stavolta firma di Saba i giuliani restano all'ultimo posto meno 12 dalla salvezza e meno 6 dalla zona play-out smentita la notizia trappelata sulla stampa di dimissioni dell'allenatore Angelo Bardini che invece resta al timone della squadra per cercare l'impresa weekend più che positivo invece per tutte le altre squadre locali nei vari campionati regionali iniziare dall'Olmedo che grazie al 3-2 sul campo della Lanteri si conferma il quarto posto nel girone E di prima categoria la squadra di Gianluca Pinna ha vinto e rimonta dopo essere passate in svantaggio per 2-1 in gol Sanci, Scherchi e Carboni come l'Inzis che nel finale ha parato un rigore tutte vincenti anche le squadre ilgheresi nel girone P di seconda categoria l'Audax resta al secondo posto a meno uno dalla capolista Ittili grazie al 3-2 contro la Ginnasium subito dietro troviamo il Treseliges che invece ha battuto 2-1 in trasferta il Sogma mentre il Maristella ha vinto 3-1 con il San Domenico Caniga l'ultima pausa per la pubblicità parliamo di rugby l'amatorial ghiero riscatta l'amara sconfitta di sette giorni fa nel derby con il Capoterra e nel match valevole per l'undicesima giornata di campionato giocattosi ieri all'Arena del Sole di Sassari ha battuto Parma per 26-17 guadagnando altri 5 preziosi punti in classifica Vittoria doveva essere vittoria è stata l'amatore rugby al ghiero ha superato 26-17 il rugby Parma 1931 la formazione di Marco Anversa che ha dovuto giocare a 40 km da casa sul campo comunale Arena del Sole di Sassari la gara contro i parmigiani vista la squalifica inflitta dalla federazione non ha tradito le attese dei suoi tifosi ed ancora una volta è riuscita a fare punti in una gara interna il successo con il Parma nella gara valevole come undicesimo turno del campionato di Serie B è valso ulteriori 5 punti in classifica per i catalani che proseguono nella loro imbattibilità casalinga quella di ieri rappresenta la quinta vittoria stagionale della compagine allenata da Anversa la cronaca dell'incontro diretto dal signor Claudio Castagnoli racconta di un primo tempo dominato dalla compagine algerese che mette le cose in chiaro e con due mete solo una trasformata Cegli e Marston chiude la prima frazione sul 12 a 5 contro solo una degli ospiti nel secondo tempo la musica cambia poco nonostante il Parma provi a reguantare gli algheresi questa non riesce nell'intento e con altre due mete le stesse che i parmigiani hanno segnato nei secondi 40 minuti l'amatore Alghero chiude l'incontro sul 26-17 si porta a casa ben 5 punti frutto delle 4 mete e dei più 7 punti a referto il pronto riscatto di cui si parlava dopo la Mara sconfitta nel derby con il Capoterra alla fine è arrivato insieme ai 5 punti che i catalani hanno messo in cascina il basket seconda giornata di ritorno a Mara per la Dinamo Banco di Sardegna che non è riuscita a conquistare il match con l'Acquavitas nella Cantù cadendo in casa per 78-86 a coach Marco Calvani non basta un super Alexander autore di 27 punti con 10-13 da 2 4 limbalzi e 5 falli subiti per un totale di 31 di valutazione i padroni di casa pagano il break subito nel primo quarto e le ottime percentuali al tiro dei Brianzoli nonostante le difficoltà la Dinamo sfiora più volte la riapertura della partita portandosi anche a un possesso di distanza prima di andare negli spogliatoi nel secondo tempo il copione è simile ai primi due quarti nella terza frazione Cantù di Laga mentre negli ultimi dieci minuti giganti non riescono a imporsi nonostante la grande energia e produttività offensiva di Alexander Stipsevic e Mitchell per i sassaresi non c'è il tempo per abbattersi nel mirino della Dinamo c'è già il round 4 del Last 32 di Euro Cup in agenda mercoledì al Palazzo Radimini contro il Kai Basket Saragozza e sempre per il basket vediamo adesso che cosa hanno prodotto le nostre squadre locali cominciamo con il fine settimana delle nostre compagini femminili visto il turno di riposo osservato dalla Serie D nella Serie B femminile la Mercedes ha purtroppo perso di soli tre punti 63-60 nella prima partita della cosiddetta fase ad orologio contro l'Antoniano un quarto che è seconda in classifica nella Serie C regionale si è giocata la quarta giornata di ritorno purtroppo c'è da registrare la brutta sconfitta della Pallacanestro Alghero che ha perso per 76-30 in casa della capolista Rimar Baschetto e Ferrini quarto la Serie D regionale maschile sempre della Pallacanestro Alghero ha osservato invece un turno di riposo ed era l'ultima notizia questa dell'edizione di oggi del nostro telegiornale vi lascio come sempre al meteo l'informazione di CatalanTV ritorna domani puntuale alle 13.30 grazie per averci seguito arrivederci